3, 2, 1... Non sto più nella pelle! Lo scorso anno ho conosciuto una ragazza straordinaria. Mi licenzio. Niente batte New York a Capodanno. Non si sono rotte le acque. Tutte? Niente male. Chi bacerai a mezzanotte? Cominciamo! È questo il Capodanno? È questo? Capodanno a New York. Dal 23 dicembre al cinema. Capodanno a New York.